good morning ragazzi partiamo subito al razzo pagelle di spal inter una partita dove ce la siamo vista davvero davvero brutta anzi bruttissima siamo stati a lunghi tratti sottomessi dalla spal però abbiamo vinto e quella l'unica cosa importante quando giochi male rimane solo una cosa da fare vincere ok quindi andanovic 7 è stato fenomenale in alcuni interventi nel rigore la battezzata centrale quindi rimasto fermo come al suo solito nei tiri però è andata bene è andata fuori e forse antenucci è stato anche distratto dal fatto che non ha visto nessun movimento interlocutorio del portiere che molti giocatori si sa che aspettano il primo movimento del portiere per interpretarlo e capire dove tirare quindi sarà stato anche ingannato dalla sua immobilità quindi sette in pagella per super samir tornate a livelli di samir con il cappellino a destra versalico non è stata una partita chissà che cosa eccezionale però ha dimostrato di essere forse forse il miglior crossatore della squadra mettendo pure un assist quindi 6 e mezzo immagino che a furia di giocare diventerà molto più efficace soprattutto in fase propositiva in fase difensiva non ha rischiato nulla quindi sime versalico 6 e mezzo difesa miranda 5 rigore rigore regalato alcune alcuni interventi difensivi troppo molli troppo rilassati ok il classico errore alla miranda quando non è in giornata scrinia 6 e mezzo solida solidità non deve aggiungere altro altro ultimamente si degna anche di impostare quando l'inter fatica a creare gioco dalla linea mediana a sinistra beverly scop 2 a samoa in calo 6 meno ma sempre difensivamente solido oggi dal punto di vista offensivo ieri anzi molto meno molto meno propulsivo rispetto alle altre volte centrocampo borca valero 5 e mezzo ma un 5 e mezzo che mi è piaciuto sembra strano dirlo ci ha messo un po di cuore ci ha messo un po di grinta cercato di fare da collante tra i reparti ovviamente borca valere quello che è ragazzi non ci potremmo aspettare chissà che cosa quindi un 5 e mezzo che comunque mi ha soddisfatto perché da lui non mi aspettavo nulla di più se non qualcosa di meno vecino vogliamo dargli un 6 meno di incoraggiamento un 6 diamogli un 6 solita partita anonima dove ha corso molto a vuoto era in tutte le zone del campo senza creare nulla di positivo in fase offensiva e senza distruggere qualche azione avversaria in fase difensiva un giocatore totalmente anonimo ma comunque diamogli un voto 6 perché sta giocando meno peggio rispetto al suo standard poi sinistra peresic l'avevo detto nel mio video precedente un bel 6 che per lui già è tanto ha messo l'assist per il resto 70 minuti di anonimato assoluto di non lo so ragazzi se sono io esagerato scrivetemelo se sono esagerato nei suoi confronti per esici veramente anonimo invisibile è una cosa veramente sembra di giocare in 10 ma non è in 10 perché gioca male non gioca proprio ok però meglio di altre volte quindi la sufficienza ha messo anche un assist che non mi ha condizionato nel voto perché già si era visto con qualche azione buona un qualche tiro parato dal portiere che stava giocando era in leggera ripresa a destra che tabbaldè un errore da matita rossa ok un errore da stralcio del cartellino da di calciatore quella palla che ha cercato di dare ai cardi con cinque attimi di ritardo dove ormai poteva doveva solo tirare ok per il resto ragazzi io lo vedo più come seconda punta o falso 9 o prima punta nonostante non è un bomber che esterno di fascia è un po sprecato in quella situazione come erano sprecati varie der come sarebbe sprecato la toro martinez quindi non è neanche colpa sua se prende questo 5 e mezzo lo vorrei vedere più vicino ai cardi più vicino all'area di rigore se non dentro poi nengolan ragazzi nengolan devo devo tagliare i video vecchi e riproporli ogni volta che devo parlare di lui è una garanzia una sicurezza e il solito un se più per lui poteva dare di più poteva essere più incisivo ma comunque nengolan impegna almeno due avversari su di lui come se fosse il peggiore dei bomber nengolan è colui che fa ripartire l'azione soprattutto in mancanza di brozovic nengolan è colui che molto duttile tattica vende infatti quando aveva giocato con le due punte ed era ritrati in mediana nengolan ragazzi il faro dell'inter punto e basta attaccante maurito e cardi ragazzi ve l'ho detto con un linguaggio non verbale due gol sette in pagella e muti lo so umanamente non è che ci piace più di tanto però ragazzi fin quando segna ci fa comodo va benissimo e se se ne deve andare ci farà guadagnare tanti di quei milioni quindi dobbiamo apprezzare il ragazzo gol decisivo in una partita veramente mi ricordava inter cagliari cagliari inter dove fece l'anno del triplete doppietta milito dove il cagliari in balia del cagliari stiamo perdendo doppietta di milito e vai con liscio che subentrato politano un 6 di più a un subentrato non posso non posso non posso dargli perché non è che può fare tante cose si è mangiato un gol chi voleva entrare voleva tirare sulla linea di di porta quasi e l'ho detestato in quell'ambito però comunque da brio comunque da da dinamismo da corsa da da lotta a centrocampo quando ripiega tatticamente ragazzi fa paura deve solo diventare più decisivo incisivo e più cattivo ok puntare più la porta e più l'aria poi che entrato a beca gli ardini non si può giudicare e l'autoro martinez sempre un 6 al apolitano ragazzi palla al piede forte palla al piede in fase di non possesso uno che lo chiamano toro ce lo immagina e ce lo immaginiamo un po più combattivo però in fase di possesso ragazzi c'è proprio proprietà di controllo palla fuori superiori alla media dei degli attacchi di un attaccante centrale ok spalletti se più non posso dare di più perché non capisco una cosa è una sosta quindi che cavolo fare riprosare devrai due non mi piace la gestione di di l'autoro martinez perché sta facendo come caramò gioca davvero pochissimo lo sta facendo giocare davvero pochissimo ok e per non bruciarli rischi di imbalzamarli i giocatori così che poi che devi bruciare se una persona è forte è forte non bruci nulla un'altra leggenda metropolitana il bruciare calciatori e per il resto i cambi ha messo politano e ha reso bene avrei tolto che t'ha appena fatto quell'errore però giustamente non si poteva fare quindi spalletti molto grintoso molto grintoso quindi gli fa recuperare gli fa testa al derby ragazzi testa al derby queste sono le pagelle scrivetemi se non siete d'accordo scrivetevi se siete d'accordo iscrivetevi se vi è piaciuto il video e attivate la campanella qui sotto forza inter io sono in clima derby ok sono in clima derby dobbiamo vincere a tutti i costi noi abbiamo l'inter nel cuore ciao raga